A piedi tra le nuvole spegni il motore ed ascolta la montagna, è l'invito che il Parco Nazionale del Gran Paradiso fa ai suoi visitatori per percorrere a piedi o in bicicletta la valle e sentieri del Colle di Nivolet. Tutte le domeniche, fino al 31 agosto, gli ultimi chilometri che portano al Colle si possono percorrere solo a piedi o nei bus navetta, mentre un'analoga iniziativa nel vallone di Piantonetto permette tutti i sabati di percorrere in navette gli splendidi altipiani verdeggianti e i pascoli di questo angolo del Gran Paradiso.